Oggi 30 gennaio si sta per riunire l'equipe della Commissione della Pastorale Sociale del Lavoro. Il nostro obiettivo è, visto che la prima riunione dell'anno 2014, quella di fare un po' di programmazione generale di quello che è l'attività che vorremmo sviluppare in tutto questo anno, la convocazione della Commissione di Ocesana per la Pastorale Sociale che ci sarà il 18 febbraio e ovviamente cominciare a mettere in cantiere i progetti principali che sono quello della Scuola, la Dottrina Sociale della Chiesa che vorremmo far partire da ottobre e le altre manifestazioni tra cui l'appuntamento del primo maggio con i lavoratori che dobbiamo cercare già di cominciare ad organizzare. Oltre a questo l'appuntamento è relativo anche ai percorsi di formazione che vogliamo mettere in cantiere e la comunicazione di tutto ciò che facciamo, compreso il progetto Policoro, che nei prossimi giorni ci vedrà protagonisti con diverse iniziative.